Concessionari all'auto, a Montagna in Valtellina e a Delebio. Ormai ci siamo. Dopo anni di stallo e mentre, seppur in ritardo, arriva al traguardo quella di Morbegno, finalmente sarà approvato a giorni anche il progetto della tangenziale di Tirano. La notizia è di oggi. Il Ministero ha convocato per il 7 marzo la relativa conferenza dei servizi, un atto formale indispensabile per verbalizzare i pareri favorevoli alla realizzazione del progetto approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il prospetto passerà successivamente al vaglio del Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che dovrà dare il via libera all'appalto dell'opera dal costo di 145 milioni di euro. La tangenziale che permetterà di bypassare l'intero centro a Duano, nel corso degli anni ha già l'attivo Uniter, che ha subito continui in toppi e ritardi. L'ultimo proprio quest'estate, quando il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva deciso di porre ulteriori modifiche al progetto iniziale, messo a punto quasi otto anni fa. Oggi, però, la realizzazione del tanto atteso intervento, pensato e voluto per liberare la città dal traffico turistico e commerciale, sembra ormai vicino alla fase della concretezza. ANAS ha già identificato la società di ingegneria che si occuperà della progettazione esecutiva dell'opera. Un'infrastruttura che, insieme alla variante di Morvegno, potrà finalmente dare respiro alla viabilità provinciale. Da anni anche a Tirano, come in bassa valle, si paga lo scotto di flussi di traffico sempre più intensi, sia per quanto riguarda le attività produttive e commerciali, sia sul fronte del turismo.